dell'est e dell'ovest un applauso lunghissimo e anche ai nostri bambini ai loro sogni e alle loro probabilità e alle loro aspirazioni d'accordo? ci siete? e su questo gruppo di vostro permesso voglio contarvi questa nina nana africana che mi ha insegnato un amico che si chiama Moricante la devo fare? la giafa di afa la giafa la giafa la goleggia la giafa afaci